Formula Pro Advanced prepara automaticamente all'istante un biberon di formula calda. Ecco come funziona. Per iniziare, selezionare l'impostazione della formula, la temperatura del biberon e il numero di millilitri che si desiderano preparare. Premere Start. L'apparecchio eroga la formula dal contenitore della polvere nell'imbuto, mescolandola con l'acqua alla temperatura scelta. Quindi viene erogata direttamente nel biberon senza bollicine. È importante selezionare l'impostazione corretta per la marca e il tipo di formula che si utilizza. Questo numero indica il rapporto specifico formula-acqua affinché Formula Pro esegua dosaggi precisi. Le impostazioni della formula sono disponibili su babybrezza.com barra FPA. Tieni inoltre presente che il livello finale del biberon sarà superiore al numero di millilitri selezionati per via del volume di polvere aggiunto. Formula Pro Advanced è progettato per miscelare in maniera uniforme formula e acqua. Alcune formule, in particolare quelle ipoallergeniche, possono essere più difficili da miscelare. Quando il biberon è pronto, consigliamo sempre di controllare la presenza di grumi e di agitarlo o mescolare il contenuto se necessario. Per informazioni più utili, visita il nostro centro informazioni Formula Pro Advanced o contatta il nostro team di assistenza clienti.